Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Dopo 5 anni di lavoro, la Giunta si appresta a presentare le linee guida del nuovo piano regolatore generale di Fano Verso le regionali, caos nel PD, la Mancinelli annuncia di non candidarsi alla guida della regione Ceriscioli rilancia le primarie, ma da Roma a Zingaretti lo blocca e chiede a Gostoli una rosa di nomi Il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato i parenti delle vittime della strage in discoteca I quali chiedono che l'8 dicembre diventi un evento nazionale commemorativo Il sindaco Seri mantiene la promessa fatta a un nostro telespettatore Sono iniziati i lavori in via Frusaglia, dove ad ogni pioggia si creava una pozzanghera da regole Dopo 9 anni tornano a Fano le frecce tricolori L'evento è in programma il 9 agosto Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Benvenuti, dunque come avete sentito dal sommario La giunta guidata dal sindaco Massimo Seri si appresta a presentare nel prossimo Consiglio Comunale Le linee guida del nuovo piano regolatore generale, frutto di 5 anni di lavoro Nel prossimo Consiglio Comunale del 26 febbraio verranno presentate delle nuove linee guida del nuovo piano regolatore generale, realizzato dall'assessore all'urbanistica e i tecnici del comune di Fano Dopo 5 anni di lavoro svolto dalla giunta precedente, si andrà a delineare la Fano dei prossimi 10 anni Considerando i cambiamenti in atto Tra gli obiettivi posti da parte dell'amministrazione rientra espansione della città storica oltre le mura Attenzione particolare a Viale Cairoli e la passeggiata che porta dalla Darsena Borghese con Viale Colombo Individuato da Fanesi è anche un collegamento di mobilità dolce Che mette in comunicazione la zona trave con il cimitero di Via Giustizia Il campus scolastico è attraversando la città, la caserma Paolini, l'ospedale Santa Croce, lo stadio Mancini fino all'ex mattatoio e l'aeroporto Definiti inoltre anche altri progetti Un collegamento viario, carrabile, soprattutto in direzione nord con Pesaro Noi riteniamo che questo sia uno dei più grandi problemi, sempre discusso in questa città Il primo punto è sicuramente l'esigenza, la necessità di realizzare un nuovo casellino autostradale Che serva solo per collegare con Pesaro, verso nord, quindi la città di Fano Quindi un casellino l'abbiamo previsto al Fenile, lontano dalle case In una situazione anche dal punto di vista della visuale, dal punto di vista anche del paesaggio Che non impatta tantissimo con il territorio e circostanza che è ottimo E quindi un casellino più piccolo rispetto a quello già previsto Un po' più a nord, a fianco alla superstrada, a valle della superstrada Confermiamo la presenza della strada Interquartieri che si connette con la fine delle opere compensative E che va verso Gimarra Confermiamo anche la presenza di una strada complanare all'autostrada Per raggiungere la strada provinciale che porta da Novilar a Pesaro Zona Muraglia Ma abbiamo anche inserito la possibilità di prevedere il potenziamento della strada Che da Fenile va su verso Rocco Sambaccio E di lì una previsione che possa procedere in maniera da collegarsi Senza raggiungere la statale 16 con la strada provinciale dell'Ardizio Verso sud invece Fanesi conferma un rafforzamento della strada di mezzo Strada comunale già esistente che si estende ai margini dell'autostrada E collega la strada provinciale 16 in direzione San Costanzo con Marotta Attenzione particolare invece per l'area di Chiaruccia Oltre alla previsione della nuova clinica convenzionata che si trova a lungo via Campanella Dall'altra parte abbiamo previsto la realizzazione sia del palazzetto aerosporto A cui stiamo lavorando da tempo sia la realizzazione in un futuro anche di un nuovo Di una nuova area sportiva che potrebbe anche includere lo stadio Il nuovo stadio è una previsione che confermiamo dicendo che Chiaruccia Che è terreno pubblico lo ricordo è una grande area risorsa di sviluppo per la nostra città Quindi oltre al palazzetto ed eventualmente lo stadio ci saranno Sforgeranno lì la caserma dei vigili del fuoco La sede di un'importante società di ingegneria di Fano che è Nereco Che ha già presentato i progetti, ha già acquistato l'area E quindi diventerà una delle zone strategiche La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli non si candida alla presidenza del Regione Marche Lo ha annunciato lei stessa in una diretta Facebook Mi dispiace della scelta che ha fatto ma la capisco molto Ha detto invece il sindaco di Pesero Matteo Ricci Mentre appena si è diffusa la notizia del suo passo indietro Luca Ceriscioli si è affrettato subito a rilanciare le primarie Primarie bocciate dal segretario nazionale del partito Nicola Zingaretti Che poco fa ha dichiarato di aver sentito il segretario regionale Gostoli E di avergli dato tutto il suo sostegno nel percorso intrapreso Preso atto ufficialmente nei giorni scorsi della indisponibilità degli alleati per le primarie Ha detto Zingaretti occorre adesso lavorare tutti insieme Per tenere la coalizione di centro-sinistra su un nome unitario e competitivo Si ragioni quindi con serenità e su una rosa di nomi Che possa rappresentare la coalizione e che possa dialogare con i 5 Stelle E intanto domani arriva a Pesero Matteo Salvini E farà tappa in Piazza del Popolo alle 18.30 Dove è previsto un comizio Ma Matteo Salvini arriverà a Pesero alle 17.45 Per una visita alla sede dell'Unione Italiana Cecchi Al termine di questo incontro Cenerà con gli amministratori e i militanti della Lega I cittadini e imprenditori all'hotel Flaminio Partiti i lavori contro gli allagamenti in via Frusaglia E così il sindaco Seri mantiene la promessa fatta ad un nostro telespettatore Era stata definita la pozzanghera più lunga d'Italia Quasi da primato Quella che ad ogni pioggia si creava in via Frusaglia A ridosso del circuito Marconi in zona trave a Fano Una situazione, quella di via Frusaglia Molto discussa negli ultimi tempi Tanto da finire anche in consiglio comunale come interrogazione Dovuta alle numerose lamentele dei residenti Che durante i forti temporali Risultava quasi impossibile riuscire a tornare alle proprie abitazioni Dall'acqua presente su tutto il manto stradale Buone notizie arrivano per chi risiede in zona Da questa settimana sono partiti i lavori Per la risoluzione di questo annoso problema Siamo arrivati alla conclusione Venerdì termineranno i lavori Come dicevo un intervento importante Molto atteso Perché questa è una zona non solo frequentata dai residenti Ma anche da tutti coloro che utilizzano gli impianti sportivi Anche un bel biglietto da visita Qui c'era un problema annoso Che si portava dietro da tanti anni C'è un impegno che ci siamo assunti E ancora una volta dimostriamo Che quando diciamo le cose le facciamo Poi può capitare che ci si impiega qualche mese in più Ma le complessità ci sono Nella pubblica amministrazione Le difficoltà diverse Ma quando diciamo una cosa la facciamo Il lavoro è stato creare una nuova rete fognaria Che raccogliesse le acque piovane Collegandosi con il collettore della rotatoria Come dicevo venerdì i lavori termineranno Poi faremo anche ai lati della strada Una depolverizzazione Per risistemare anche tutta l'area Dove si sono fatti i lavori Quindi ecco non nascondo la soddisfazione Per questo ulteriore intervento Che significa qualità della vita Significa anche rendere più accoglienti i nostri spazi E' una città che cresce Che si migliora giorno dopo giorno Settimana dopo settimana Il ministro dell'interno Luciana Lamorgese Ha incontrato questa mattina in prefettura d'Ancona I parenti delle vittime della strage Della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo Dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre Morirono 5 adolescenti Ed una madre di 39 anni Nella calca provocata da spruzzi di spray al peperoncino Inoltre ad una delle uscite di sicurezza Crollò una ringhiera Con l'esponente del governo C'è anche il capo della polizia Franco Gabrielli Presente anche Luigina Bucci Presidente del comitato genitori Che ha chiesto che l'8 dicembre Diventi un evento nazionale In modo che sia non solo commemorativo Ma anche promozionale Per il divertimento in sicurezza degli adolescenti E la costituzione di un tavolo di riflessione Per dare un regolamento più serio Ai locali che gestiscono eventi per minori Due persone questa mattina Poco dopo le 6 e 30 Sono rimaste incastrate all'interno dell'auto Sulla quale viaggiavano A seguito di una collisione con un Fiat Scudo L'urto è avvenuto lungo la statale adriatica nord All'altezza del civico 142 Nei pressi della rotatoria sul Cesano E nello schianto l'auto, una Fiat Idea È finita contro la recinzione di un'abitazione Le due persone rimaste intrappolate Nell'abitacolo della vettura Sono state estratte dai vigili del fuoco di Senigallia Oltre al personale del 118 E una pattuglia della Guardia di Finanza Che ha eseguito i rilievi di legge Ed ora parliamo, diamo spazio questa sera Al sindaco di Colli al Metauro Stefano Aguzzi Che replica alle dichiarazioni Del segretario provinciale della Lega Doglioni Motivo di questo intervento È la presenza del sindaco di Colli al Metauro Ad un tavolo nel quale si discuteva Della ciclovia da realizzare Di fianco alla vecchia ferrovia Fano-Urbino Il botto e risposta tra Lega e Stefano Aguzzi È scaturito tutto dalla sua presenza Al tavolo di presentazione Della ciclovia del Metauro A fianco alla linea ferroviaria Fano-Urbino Fatta dal governatore Ceriscioli Proprio nel comune di Colli al Metauro Fortemente voluta e pensata dal centro-sinistra Pidì in testa Tanto è bastato alla Lega Fano Per gridare nei giorni scorsi allo scandalo Per voce del suo segretario provinciale Doglioni Che del ripristino della tratta di smessa Fano-Urbino Ne aveva fatto un tema da campagna elettorale E per affermare che Aguzzi Non solo non ha avvisato nessuno di questo appoggio Ma che con questo atto Non è più un sindaco rappresentativo del centro-destra Oggi pronta arriva la replica Ovviamente del diretto interessato Rispetto alla possibilità di realizzare una pesta ciclabile Da Fano fino a Tavernelle di Colli al Metauro Io sono perfettamente d'accordo È una struttura che serve Pensate a cosa voglia dire un collegamento Tipo tra il quartiere di Sant'Urso A Fano e il quartiere di San Lazzaro O tra Calcinelli e Tavernelle O tra Lucrezia e Carrara O Cucurano Cioè tanti motivi per doversi spostare Oggi lungo la Flaminia Che è pericolosissimo Oltretutto sembrerebbe che non ci sia incompatibilità Tra ferrovia e pesta ciclabile Non vedo perché non dovremmo E non dovrei essere d'accordo come sindaco Domattina c'è una conferenza di servizio in regione su questo Io parteciperò personalmente Sosterrò la pesta ciclabile Qualora capissi che fosse un blef elettorale Elettorale da parte di qualcuno Sarei il primo a denunciarlo Per quel che riguarda le affermazioni del segretario della Liga Io non è che voglio replicare politicamente Faccio solo una precisazione C'è un rapporto politico tra partiti E un rapporto istituzionale tra chi ricopre incarichi Un sindaco parla con le altre istituzioni Non importa di che partito sono le altre istituzioni Quando io ero sindaco Fano Ho ottenuto 5 milioni di euro Per le ristrutturazioni scolastiche Dall'allora governo Renzi E io ero un sindaco di centrodestra Come lo sono oggi Oggi con quei 5 milioni L'attuale amministrazione sta costruendo La nuova scuola di Cucurano e Carrara Per quel che riguarda la Coglia al Metauro Abbiamo ottenuto 980 mila euro Dalla regione Marche Per la ristrutturazione della scuola Dezze di Saltara Non è che abbiamo guardato il colore politico Quindi i rapporti istituzionali Un sindaco lo tiene con chi è opportuno che li tenga Per quel che riguarda la politica Tra tre mesi si votano elezioni regionali Io inviterei il segretario della Liga Ad unire il centrodestra Non a dividerlo Ci sono molti sindaci civici Come me in questa provincia Che votano il centrodestra Io voto Forza Italia Non voto Lega Però voto il centrodestra Lo vorrei unito Con un buon candidato Per poter vincere le regioni Certo che se Doglioni continua a dividere Non dà un contributo in questo senso E restiamo a Colli al Metauro Perché tra il pomeriggio e la notte Di domenica scorsa Alcuni ignoti hanno danneggiato La nuova rotatoria di Villanova Come vedete da queste immagini Ora La polizia locale di Colli al Metauro Invita chiunque possa fornire elementi utili All'identificazione dell'autore o degli autori A contattare il numero del comando Al numero 89 11 33 Le frecce tricolori Tornano a Fano Il 9 agosto prossimo Dunque in piena estate Dopo nove anni Dall'ultima esibizione Era l'estate del 2011 Quando l'orgoglio dell'aviazione militare italiana La pattuglia acrobatica nazionale Ha mostrato a migliaia di persone Stipate sulla spiaggia della Sassonia Di cosa è capace Una delle pattuglie acrobatiche Più ammirate al mondo Tornerà a Fano Il prossimo 9 agosto Coronando così il sogno di molti appassionati E ammiratori di questi piloti straordinari Che la compongono Un risultato importante per Fano Anche dal punto di vista promozionale E' uscito proprio qualche giorno fa Il calendario dell'Aeroclub Italia Che indica proprio Fano Il 9 agosto Sarà questo fantastico evento Che riempirà i nostri litorali Che in realtà è grazie di un lavoro Fatto da parte dell'amministrazione comunale In collaborazione con l'Aeroclub di Fano Ed un grande rapporto Che sia anche con l'Aeroclub Militare Con l'Aeroclub Italia Che ha fatto sì che Le frecce tricolori potessero tornare Dopo 9 anni nella città di Fano Nella riuscita di questo bel risultato Una parte sostanziale l'ha avuta L'Aeroclub di Fano Che grazie alle sue componenti Molte delle quali ex piloti militari E i buoni rapporti costruiti nel tempo Ha creato le giuste condizioni Per riportare la panna nei cieli fanesi Certamente sì L'Aeroclub di Fano si è dato da fare molto Negli ultimi anni Per organizzare eventi Per riallacciare quel rapporto Che deve esserci con la comunità Della città E questo ha portato anche A farci conoscere Traverso l'autonautica militare In modo da avere un rapporto Di mutuo scambio Di esperienze Di condivisione Di condivisione della nostra passione La nostra amicizia Con il capo di Stato Maggiore Il generale Rosso Ha contribuito a far sì Che poi riuscissimo a portare La pattuglia acrobatica Di nuovo nei cieli di Fano Il programma si sa Faranno la loro classica esibizione C'è qualche anticipazione Che possiamo dare? Un'anticipazione sul loro programma No perché dipenderà Dalle condizioni meteorologiche Dal vento Presumibilmente Il 9 agosto Dovrebbe essere Possibile E eseguire tutto il programma Sarà sulla battigia del mare Quindi La gente potrà goderselo Asseppandosi lungo la spiaggia Della Sassonia E quindi Sarà un bello spettacolo Per quanto riguarda Altre partecipazioni Contiamo di portare Qualche Macchina speciale Della aeronautica militare Non da ultimo Il grande elicottero Che provvede Alla sicurezza Di tutti noi Quando ci troviamo in difficoltà Cioè con gli elicotteri Che sono basati a Cervia In Romagna E che provvedono Al salvataggio Alla ricerca Di persone disperse O da soccorrere E adesso parliamo Del teatro dialettale fanese Perché è stata presentata La sedicesima edizione Della rassegna Cianfrusaglia No Non disturba per niente Non disturba No Adesso un momento In tranquillo Purtra mille difficoltà E con soltanto due compagnie A tenere alto Il nome della rassegna Per i tanti amanti Del teatro dialettale Anche quest'anno Torna a febbraio E marzo La rassegna teatrale Cianfrusaglia Giunta alla sua Sedicesima edizione Le uniche compagnie Che stoicamente Resistono Stringendo i denti E riducendo all'osso I costi E facendo tutto in casa Come si dice Sono quelle che negli ultimi anni Hanno avuto la forza Di portare in scena Una nuova commedia Inedita E sono il Guitto E il Gaff Rispettivamente 42 e 35 anni di vita Le altre anch'esse storiche Compagnie fanesi Che hanno animato La rassegna Che nei tempi Di massimo splendore Contava anche Sette compagnie In cartellone Purtroppo Ce le siamo perse Per strada Falci diate Dai costi Di affitto sala Produzione E incombenze Tra famiglia Lavoro E tempo Da dedicare Che gli attori Non professionisti Purtroppo hanno Pochi ma buoni Quindi E forti Anche delle oltre 3000 presenze Che ogni anno Varcano la soglia Della Politeama Per passare due ore In spensieratezza Lontano Dalle incombenze Quotidiane La prima compagnia Ad esibirsi a febbraio Con tre repliche Sarà il Guitto Con la regia Di Alice Guidi Che porterà in scena Il microcosmo Di un bar Con i suoi personaggi Le sue ritualità In un intreccio Di situazioni Che abbraccerà Un lasso di tempo Di due giornate In cui accadrà Di tutto e di più È un universo Dove si può incontrare Una galleria Di personaggi Strani In particolare Tutti con Le loro problemi Con le loro storie Che si intrecciano E diventano La vita Di quel bar Quando sarete Voi a teatro? Noi andiamo in scena Il 24 25 26 febbraio A metà marzo Invece Con quattro date Sarà la volta Del Gaff Con una commedia Scritta dai soliti Lucio e Fabrizio Signoretti Che vede In contrapposizione L'universo maschile E quello femminile Con tutto il bagaglio Di stereotipi E tipiche situazioni Che poi però Nella seconda parte Della commedia Daranno vita A diversi colpi Di scena Questa commedia È nata Dall'esigenza Dalla voglia Di affermare Il predominio maschile Nei confronti Di quello femminile E soprattutto Anche mettere In evidenza Quelle che sono Le mille costrizioni Che ci impongono E tempulit quel E magna bene E non metta Tutte cose Che noi uomini sappiamo Però Nello svolgere Nello scrivere Sta commedia Cosa è venuto fuori Che Nel poi riportare I fatti quotidiani Nella commedia Che chi dà L'inizio Chi dà il via Chi dà il là A tutte le vicende Sono sempre Le donne Le femmine Quindi A nostro malincuore Abbiamo dovuto Constatare E interruttare Sta commedia Cum la giri la giri Manda sempre le donne Quando sarete in scena? Allora Noi andremo in scena Al Politeama Il 16, 17, 18 E 23 marzo Cum la giri la giri Manda sempre le donne Mi raccomando Venite a trovarci Chi è che reciteria Stasera? È il gas Co Il guitto Chi? Il guitto Il guitto E siamo nel cuore del carnevale Quindi parliamo adesso delle iniziative Che ha organizzato la Proloco di Fano In occasione del giovedì grasso E che si protreranno fino a sabato Allora anche quest'anno la Proloco Organizzerà i tre veglioni Che inizieranno da giovedì grasso Di questa settimana E si svolgeranno le giornate di giovedì Venerdì e sabato Nella giornata di giovedì Inizieremo con il veglione del castagnolo d'oro Che è giunto alla quarta edizione Ed è un veglione dedicato alle persone con disabilità Ci saranno protagonisti anche tutti i club anziani Che realizzeranno i castagnoli Che poi durante la serata verranno distribuiti a tutti Il castagnolo d'oro che si svolgerà nella giornata di domani Giovedì 20 febbraio Dalle ore 15.30 alle ore 19 Alla bocciofila alla combattente di Fano Nella giornata di venerdì invece Sempre dalle 16 alle 19 Ci sarà il veglione dei bambini Ecco questo è un veglione a cui teniamo tantissimo È una festa completamente gratuita Siete tutti invitati Portate i bambini mascherati Se anche i genitori vogliono venire mascherati Non c'è nessun problema Anzi sono graditissimi Nell'arco della serata Realizzeremo una merenda Una merenda per tutti questi bambini Che vorranno partecipare Ci saranno delle premiazioni Il veglione dei bambini Si svolgerà nella giornata di venerdì Dal 21 o 21 febbraio Dalle ore 16 alle ore 19 Per passare poi alla serata del sabato sera Che inizierà alle ore 20 Fino all'orario non si sa Perché fino a quando avremo piacere Di divertirsi tutti insieme In cui il veglione della gruppa Che è diventato ormai un appuntamento importante In cui ci sono questi gruppi, club, fazioni Che organizzano delle sfilate Che è diventato un momento Come si può dire All'affanese Si dà un po' la pezza Nel senso che è molto sentito Daremo dei premi a queste A queste mascherate In particolare la miglior sfilata La miglior gruppa E la miglior maschera singola Come dicevamo Ci sarà comunque un complesso In cui si potrà anche ballare Dopo che saranno finite le sfilate La possibilità oramai Di poter partecipare Non c'è Perché abbiamo concluso Le iscrizioni già da qualche giorno E a proposito di veglioni Non perdetevi lo speciale Che andrà in onda tra pochissimo Realizzato in un altro veglione Quello organizzato Dall'ex presidente dell'ente carnevalisca Luciano Cecchini Che si è tenuto nelle settimane scorse Grazie per averci seguito L'informazione torna domani mattina alle 7 Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie per aver guardato il video